Prendo orecchia! E la vecchia avete preso. Il sondaggio che avevo creato la scorsa settimana ha avuto una risposta praticamente univoca. L'Opera al Nero di Margheriti Orsenar. In effetti era la scelta che mi aspettavo, quindi procediamo. Intanto grazie a tutti quelli che hanno votato, e sono stati tanti, e grazie ancora a tutti i primi 100 iscritti a questo canale. È un piccolo passo, però per un novizio non c'è male. Ma veniamo subito al punto. La vecchia, dicevamo. Scherzi a parte. Signori, questa è davvero una di quelle autrici che adoro. Come molti ho iniziato a leggerla dal romanzo che migliaia di libri in tutto il mondo non fanno altro che proporre. Memorie di Adriano. Ero così stufo di vederlo dappertutto che ho detto, vabbè, si vede che merita. E infatti è così. Ma non credevo assolutamente che sei stato ancora più affascinato dal romanzo di cui parliamo oggi. L'Opera al Nero, appunto. Ho notato che online se ne parla davvero poco, quindi cerchiamo di rimediare. E partiamo dal titolo. Nel libro di alchimia del XVI secolo, con l'espressione Opera al Nero, viene indicata la prima fase del processo alchemico. Specificatamente quella che costituisce la separazione e la dissoluzione di una sostanza, che veniva indicata come la fase più difficile della grande opera. Tuttavia alcuni storici credono ancora oggi che questa indicazione non si adattasse solo e soltanto ad un qualche processo chimico. Quello che forse gli alchimisti intendevano con questa espressione era la distruzione dei pregiudizi, delle abitudini, una sorta di sforzo emotivo a cui l'uomo doveva sottoporsi per arrivare alla rivelazione. Non alla rivelazione cristiana, intendiamoci. Sono quell'insieme di scoperte di botanica, medicina, fisica, che resono alcuni studiosi del tempo dei veri e propri pionieri del moderno metodo scientifico. E il protagonista di questo romanzo, Zenone, è proprio una di quelle figure ambigue e misteriose a cavallo tra il Medioevo e il Rinascimento. L'autrice si è documentata moltissimo sia sul periodo storico sia su alcuni modelli che ha preso ad esempio per stilare la figura del personaggio e lo definisce lei stessa di volta in volta alchimista, medico, mago o più semplicemente un ateo. Lei orzenar ci racconta la storia di Zenone fin dalla sua infanzia. Nasce in Belgio, a Bruges, dove viene indirizzato subito alla carriera ecclesiastica sotto un protettore, Bartolomeo Campanus, come era di prassi a quei tempi per chiunque avesse avuto la fortuna di nascere in una famiglia nobile o benestante. È proprio grazie a questo protettore che Zenone comincia ad appassionarsi ai libri, alle belle lettere, sviando però dalla strada tracciata dal suo maestro. Subito dopo essersi infatti iscritto alla facoltà di teologia ed aver conseguito dei risultati stupefacenti, invece di accasarsi nella carriera ecclesiastica, sente bisogno di crearsi una propria formazione, nel modo meno accademico possibile. Diventa quindi un girovago, avvicinandosi agli strati più umili della società e iniziando a frequentare tutto quel mondo più basso che sente estremamente più reale di quello basato su teorie e sillogismi vari. Crede che, oltre ai testi, la vera formazione e soprattutto la ricerca di se stesso debbano passare tramite le esperienze dirette del mondo, qualunque esse siano. La frase più celebre che spesso viene estratta da questo libro è questa. Chi sarebbe così insensato da morire senza aver fatto almeno il giro della propria prigione? Zenone infatti capisce che il mondo, le cui leggi al momento sono sconosciute ma a portata di chiunque voglia allungare la mano per coglierle, è finito, ha dei confini, è limitato e si sentirebbe perso a chiudersi in un monastero e fare semplicemente vita contemplativa. Iniziando questo giro della prigione si allontana sempre più quindi non solo da un ambiente chiuso ma anche da una mentalità ristretta che quella dogmatica della religione cattolica. Zenone in questo è figlio del suo tempo, vive infatti nel pieno del periodo della controriforma quando cioè per contenere e stroncare sul nascere ogni deviazione della morale cattolica vengono istituiti dei tribunali speciali per condannare qualsiasi teoria non sia esattamente in linea con le sacre scritture. Potremmo dire con beneficio d'inventario che Zenone è una sorta di Giordano Bruno Antelitteram, un Galileo e insieme è un Paracelso, un Leonardo, uno scienziato, uno scoprettore, un illuminato. Tuttavia proprio a causa della pericolosità sociale delle scoperte che fa i libri che scrive deve tenerli nascosti deve restare sempre in movimento e sfuggire come un'ombra per non farsi peccare. In questo dimostra quanto tenga più alla verità con la v maiuscola piuttosto che alla propria santa guardia. Non è però uno sproveduto e quando nella maturità decide di aver girato ed imparato abbastanza torna a Bruges e assume uno pseudonimo, quello di Sebastiano Theus proprio per sfuggire alle possibili accuse di eresia che gli potrebbero venire dirette. Fa la conoscenza di un uomo illustre ed otto, il priore dei cordiglieri, che gli offre un posto come medico nel suo ordine. Zenone accetta. Vuole mettere in pratica sul campo le conoscenze acquisite nel corso degli anni da vagabondo continuando comunque ad imparare. E la cosa più importante che impara e che lo metterà sempre più a rischio è la vanità di ogni pensiero religioso, spirituale, filosofico. Diventa un vero medico di quelli che nel paziente vedono una semplice sommatoria di organi da curare se richiesto. Potrebbe sembrare questo un imbarbarimento rispetto a quando era partito a vent'anni, ma in effetti è proprio in questo momento che l'opera al nero a cui accennavo all'inizio si compie. Zenone infatti diventa un'automa, una macchina perfetta. Non sente più la stanchezza, i desideri della carne, la fame. Zenone cura chiunque senza fare differenze sociali e religiose e senza alcun coinvolgimento. La storia però non finisce qui. Il priore dei cordiglieri muore, la sua copertura e il nome fittizio che si era dato saltano e a causa di un presunto coinvolgimento in pratiche eretiche Zenone è costretto a rivelarsi al tribunale e a farsi carico di tutte le accuse che da anni pendevano su di lui. Le scene che ho intervallato nel video sono prese da un bellissimo film omonimo del regista francese André Delvaux in cui la parte di Zenone è interpretata magistralmente dal nostro Gian Maria Volontè che spero non abbia bisogno di presentazioni e che proprio per questo film ha vinto anche un nastro d'argento. Il film tratta soprattutto le vicende della seconda parte del libro denominata La Vita Immobile tralasciando invece tutta la prima parte che fa il quadro della giovinezza di Zenone e della sua storia, della sua famiglia e della sua evoluzione personale. Quello che non vedrete nel film, appunto la prima parte, è il quadro tipico di un adolescente. Colpisce moltissimo il progressivo disincanto di Zenone che alla severa educazione degli inizi sostituisce una vera e propria ribellione giovanile che lo porta a viaggiare per tutta Europa come abbiamo visto e non solo. Zenone sa di essere un portatore di verità scomode in un'epoca in cui citando ancora una volta il libro La fede conduce al furore. Il momento principe di questa prima parte è l'incontro dopo anni con il cugino Enrico Massimiliano. Sì, doppio nome tipo Guido Baldo, Maria Riccardelli. Il cugino è la perfetta antitesi di Zenone, un combattente e un poeta allo stesso tempo, simbolo della gloria terrena fugace che sa di esserlo ma che ricerca l'immortalità nel pensiero di una morte onorevole o in una poesia scritta perfettamente. Per un attimo si sente quella differenza netta tra i due personaggi come ad esempio in Narciso e Boccadoro di Hermanesse ma qua i contorni sono più sfumati e leggermente diversi. E a proposito di questo incontro fugace che avviene a Innsbruck tra i due cugini, Zenone lì sente finalmente di poter liberarsi e raccontare tutto ciò che lo ha attraversato, lo ha sfiorato, tutto ciò da cui ha scelto di allontanarsi e che ha assunto come verità. Verità che però in Zenone non sono dei dogmi, per lui l'unica certezza è sempre comunque il dubbio. Ed è lui stesso ad annunciare la forza di quello che oggi chiameremo il metodo scientifico con poche semplici parole mi sono guardato bene dal fare della verità un idolo, ho preferito lasciarle il nome più umile di esattezza. Zenone, diciamocelo, è anche un grosso paraculo. Racconta infatti di essere scampato a condanni o ad arresti tramite il sotterfugio, la mistificazione, la fuga ma la sua astuzia, la sua esperienza, nulla possono contro il cambiamento che sta avvenendo in lui e che hanno un episodio in particolare che è risolutivo, ovvero la morte per peste del suo servo. In quella circostanza finalmente Zenone ha quella coscienza della messa in discussione di tutto ma anche e soprattutto di se stesso. Difatti per la prima volta sente un dispiacere e capisce di essere alla fine soggetto anche lui alle passioni degli uomini che ha sempre guardato dall'alto in basso. Le pagine di questo incontro sono probabilmente le migliori che la Yorzenar abbia mai scritto almeno a mio parere e trattano diversi temi dall'amore alla religione, il dolore, la morte. Vi leggo giusto quello che ho postato su Instagram un po' di giorni fa che è preso proprio dal dialogo tra i due cugini Zenone ed Enrico Massimiliano. Voi poeti avete fatto dell'amore un'immensa impostura. Quello che ci tocca in sorte sembra sempre meno bello delle vostre rime baciate come due bocche una sull'altra. Eppure quale altro nome dare a questa fiamma che risuscita come la Fenice dalla propria fiamma? A questo bisogno di ritrovare la sera il volto e il corpo che abbiamo lasciato al mattino? Già che certi corpi, fratello Enrico, sono rinfrescanti come l'acqua e sarebbe bene chiedersi come mai i più ardenti sono quelli che rinfrescano di più. Ovviamente non vi spoilero il finale ma vorrei fare un paio di considerazioni. La prima riguarda ovviamente l'evoluzione del personaggio Zenone che abbiamo un po' già accennato. Come dicevamo Zenone nasce e cresce forzatamente in una morale molto cattolica prendendo poi le redini della propria vita esplorandola, vivendola, facendo esperienza di sé e sul proprio corpo di tutto quello che i Vangeli non dicono. Rientrando a Bruges diventa quella macchina perfetta che dicevo prima. Ecco questa sua seconda evoluzione è l'opera alchemica ma la materia su cui la trasformazione avviene non è un minerale ma è un uomo. Zenone ne ha piena coscienza sa di essere nel giusto e chi leggerà il libro saprà fino a che punto. Lotta caparbiamente per far valere la propria libertà, per riconoscere agli altri e soprattutto a se stesso l'evoluzione dell'essere umano. Mi fornivano gli attrezzi della mia arte e tra questi il più raro e il più prezioso di tutti la possibilità di pensare ed agire a modo mio. Da questo punto di vista quindi il romanzo ha un ampissimo respiro perché ci dice di non seguire la strada che gli altri hanno tracciato per noi, di crearci la nostra ed è un elogio all'infinita curiosità dell'uomo. E questo traspare quindi a chiunque si accingerà a leggere questo romanzo. Potremmo definirlo di formazione? Fate voi, ci siamo capiti. La seconda considerazione riguarda invece la Jorzenar, quindi l'autrice del romanzo. Sia Memorie di Adriano che L'Opera al Nero sono scritti in maniera molto molto partecipata. Istintivamente ho visto in questa signora con lo scialle che potrebbe essere stata mia nonna, una profondità nascosta. Sia Adriano che Zenone sono due figure combattive, libere e vincenti a loro modo. Ma lo stesso fremito che li porta verso grandi altezze li rende anche due personaggi estremamente fragili. E siccome è raro che uno scrittore o una scrittrice non abbiano anche in minima parte inserito del proprio all'interno dei romanzi, la mia domanda è stata ma quanta Jorzenar c'è in queste due figure? Lì per lì ho cercato informazioni ma a grandi linee, poi al solito mi sono goduto il fatto di aver letto un bel romanzo e sono passato ad altro. Finché un giorno vado a Senigallia e in una bancarella 2 euro trovo questo. In Vending a Life, la biografia della Jorzenar scritta dalla sua biografa ufficiale. Torno a casa, prendo in mano questo mattoncino in inglese, perché evidentemente a me comprarlo in italiano faceva schifo, e lo guardo in maniera distratta e invece... boom! La Jorzenar è Zenone. La Jorzenar è Adriano. La sua stessa storia, la sua evoluzione come scrittrice e come donna sono qualcosa di incredibile. Semplice, allo stesso tempo complessa, sorprendente e contemporaneamente scontatissima per chiunque abbia una sensibilità psicologica, passatemi il termine. Insomma, mi sono divorato la biografia, mi sono comprato altri 5 o 6 libri suoi, e soprattutto questo bel cofanettone di tre libri in cui la Jorzenar, tra realtà e finzione, racconta la sua storia e la storia della sua famiglia. Ci sarebbe davvero molto, moltissimo da dire sulla Jorzenar, ma già questo video è abbastanza lungo. Quindi prossimamente ne farò uno sulla sua vita, che spero troverete interessante. Ma tornando al video di oggi, grazie a tutti per averlo guardato. È uscito un po' lunghetto, ma credo che ne valga veramente la pena. Vi invito, come al solito, a lasciare i commenti, ad iscrivervi al canale YouTube, attivare la campanella, iscrivervi sugli altri miei social che trovate nel Linktree. Se poi il video vi è piaciuto e il libro vi incuriosisce, sotto trovate il link di Affiliazione Amazon, potete comprarlo da lì e mi date una mano per supportare il canale, come al solito. Grazie, grazie, grazie ancora per le vostre iscrizioni, aumentiamone che non sarò mai abbastanza e non sperate di liberarvi dei libri. E ci sentiamo prima di Natale. Ciao!